Sono stati 9.774 i cittadini e gli allievi delle scuole che nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 hanno visitato Palazzo Lascaris, antica dimora signorile nel centro di Torino e oggi prestigiosa sede del Consiglio regionale del Piemonte. A questi si aggiungono 46 gruppi rappresentativi di associazioni, delegazioni e singoli cittadini. Tutte le informazioni per le visite guidate a Palazzo Lascaris sul sito www.cr.piemonte.it da dove è possibile effettuare direttamente la prenotazione. Il palazzo è attrezzato per l'accoglienza dei diversamente abili.